anche oggetto delle nostre conviviali. Questo perché riteniamo che tutta una serie di argomenti che vengono trattati possano essere di assoluto interesse anche per tutti i cittadini. La realità della nostra città, con l'organizzazione urbana, naturalmente anche tutto ciò che ha a che fare, come in questo caso, proprio con le problematiche dei cambiamenti climatici. Quindi oggi, il 7 marzo, c'è questo primo appuntamento e il 21 marzo ci sarà un secondo appuntamento. Il sud coliriano, i fenomeni meteorologici, ma è un fenomeno che è un problema che incide... è il risultato del lavoro degli anni, di questo gruppo di lavoro. Vado subito al pratico. La nostra vita, l'ecosfera, è uno strato sottilissimo, è circa un millesimo del diametro terrestre. Grazie. 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 Grazie.